Salute. Salute a te. Basseri... ...quell'episodio di ieri sera. E' stata un'idiozia. Ma rimane fra di noi, Basseri, vero? E non andrai in direzione per farmi licenziare. Se questa cosa arriva alla direzione e io vengo cacciato, non me ne andrò da solo. Mi porto presso anche te. Capito? Non sapevo che eri tu. Chiaro? Se l'avessi saputo non mi avresti colpito. Ti avrei colpito lo stesso, ma non lo sapevo. Gemil, non starmi tra i piedi. Lasciami stare. Smettila di provocarmi. Vado in. Che. Come. Come. Grazie.